L'allarme e l'evacuazione di una casa di riposo di erba con 200 ospiti. L'emergenza solo simulata è uno degli scenari dell'esercitazione Extramuro 2024 che coinvolge operatori italiani e svizzeri. L'attività di addestramento proseguirà fino a venerdì nella zona dell'Erbese. La maxi-esercitazione è un progetto pilota di formazione congiunta tra Italia e Confederazione Elvetica in base agli accordi bilaterali che prevedono la collaborazione tra i due paesi in caso di emergenze legate a incidenti o calamità naturali coinvolti la Prefettura di Cuomo, la Regione Lombardia e la Milizia della Protezione Civile del Canton Ticino. In questo contesto il corso per allievi comandanti di battaglione della Milizia di Protezione Civile, sezione del militare e della protezione della popolazione Cantone Ticino prevede anche questo campo scuola formativo in Italia, nella zona del lago di Pusiano e nei comuni di Erba, Eupilio, Pusiano e Merone. Previsti 14 scenari di esercitazione, oggi in particolare è stata organizzata un'esercitazione di evacuazione della residenza per anziani Prina di Erba. I vigili del fuoco del comando di Cuomo e gli operatori del 118 hanno testato la risposta in caso di emergenza rilevante. Il personale italiano e svizzero operano in modo riconoscibile con propri mezzi uniformi, minimizzando l'impatto sulla popolazione.